Buongiorno, il 3 gennaio 2023 sono tornato sul ponte di Siria, questa è la situazione che si presenta oggi dopo i lavori fatti da Lagori, c'è ancora acqua impantanata, dice che c'era una perdita, è quello che dico io, il comune quando ha aggiustato sopra, quel lavallamento che c'era, ma non si sono accorti che sotto c'era questa buca, cioè questa perdita di acqua, vedete questo è quello che ha lasciato Lagori ieri, sperando che tutto funzioni, hanno lasciato pure un tubo come vedete, perché loro non se li portano, li lasciano in giro i tubi e questa è la situazione stamattina 3 gennaio 2023, speriamo bene, speriamo che sia stato risolto il problema e che il ponte sia sicuro, come stiamo dicendo da tanto tempo, sopra lo hanno aggiustato ma si erano dimenticati questa perdita sotto che è stata aggiustata ieri, mentre il ponte è stato aggiustato più di una settimana fa, una decina di giorni fa. Va bene, buona giornata!